Nel 350esimo anniversario della morte di Santa Luisa de Mariac, lunedì scorso, è stato promosso all'Istituto Veritatis Splendor una mattinata di studio e riflessione sulla sua figura e spiritualità. Al termine del convegno, il Vescovo Ausiliare, Monsignor Ernesto Vecchi, ha presieduto una solenne celebrazione eucaristica, nel giorno della memoria liturgica di Santa Luisa de Mariac. La famiglia vincenziana che ha promosso l'evento è presente a Bologna con le Figlie della Carità, alla Mensa del Centro San Petronio, con i preti della Missione, alla Parrocchia di Maria Regina Mundi, con il volontariato vincenziano e le conferenze Società San Vincenzo de Paoli, fondate dal Beato Federico Ozzaman. Sono momenti molto importanti, sia per noi sacerdoti in questo anno sacerdotale, perché San Vincenzo de Paoli è stato una grandissima figura di sacerdote, padre della carità, padre dei poveri, padre dei seminaristi, perché ha iniziato lui stesso fondando i seminari, aiutando dei seminari. E Santa Luisa Mariac, madre dei poveri, che iniziò prendendo i bambini abbandonati e formando questo gruppo di signore, di ragazze, che non erano suore, perché erano legate con una società per fare del bene, visitare i poveri nelle case, non più essere chiuse nei conventi come una volta erano le suore. E quindi noi ringraziamo le suore, figlie della carità, che sono in via Santa Caterina, al centro San Petronio, ringraziamo i padri e ringraziamo soprattutto Santa Luisa Mariac per il grande esempio che ci ha dato.